Ancora una notte di sbarchi di migranti sulle coste siciliane, in questo caso a Lampedusa. Tre le imbarcazioni che sono approdate sulla costa della più grande delle isole Pelagie, nell'area compresa tra Molo Madonnina e Calacroge. Sono 56 le persone arrivate sulle coste siciliane. Nel dettaglio si tratta di 38 tra egiziani, bengalesi e libici, 14 che arrivano da Guinea, Mali e Bangladesh, fra cui figurano tre donne e un minorenne, e quattro tunisini. Sono stati carabinieri a individuare e bloccare i migranti arrivati sulla costa e per quanto riguarda gli ultimi due gruppi non sono state ancora ritrovate le imbarcazioni utilizzate per il viaggio. Nei giorni scorsi sull'isola si erano registrati altri 25 sbarchi per un totale di 572 migranti che, spinti dalla disperazione e dal bisogno di trovare una vita migliore, oltre che di fuggire da zone martoriate da guerre e persecuzioni, cercano una nuova terra promessa in Europa. Nel frattempo resta viva la situazione di emergenza all'hotspot di Condrada in Briacola, dove al momento sono presenti 1.392 persone a fronte di 350 posti. Numeri pesanti, soprattutto se si pensa alle condizioni di vita quotidiane e igienico-sanitaria per le persone presenti.